Il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo ha accolto a Palazzo Nascaris il 3 febbraio una delegazione di studenti argentini delle scuole superiori di Sunchales, Santa Fe. La città di circa 18.000 abitanti si trova nella cosiddetta Pampa Umida, tra le più fertili regioni dell'Argentina con una forte vocazione per l'agricoltura e per l'allevamento. Il gruppo è venuto in Piemonte grazie a un interscambio culturale con la città di Rivarolo Canavese, con cui è in corso un gemellaggio.